Paolo Nespoli, sei mesi da extraterrestre, cosa ti ha insegnato a vivere nello spazio e vivere lo spazio? Beh, è un'esperienza direi fuori dal mondo, innanzitutto è il coronamento di un sogno e quindi mi ha insegnato che i sogni, anche quali impossibili, se uno ci lavora, se uno ci si mette di impegno ogni tanto si possono realizzare. Poi mi ha insegnato a guardare le cose con un pochettino più di distacco a rivedere le cose di tutti i giorni, perché quando si rivedono le cose, anche le cose più semplici si trova anche il modo di farle meglio. Poi mi ha insegnato ad apprezzare il nostro pianeta a capire e vedere come sia delicato, estremamente bello, ma in equilibrio e noi come umani abbiamo la gestione di questo equilibrio, quindi dobbiamo stare un attimino attenti a trattarlo con attenzione e a viverlo a pieno senza distruggerlo. Adesso sei tornato terrestre, quali sono i tuoi impegni oggi e quali saranno i tuoi impegni in futuro? Oggi ero Vigevano, sono in questo periodo in giro per fare delle conferenze, faccio conferenze a scuole, università, a luoghi pubblici come questi per far vedere che, insomma, per dire quello che dico di solito, è vero che dobbiamo sognare, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare queste cose, ci sono sempre cose interessanti. Dove, quanto e soprattutto quanto lontano può arrivare l'uomo nello spazio? I limiti sono quelli che noi ci poniamo. Oggi ci sono delle cose impossibili, le stelle più vicine a noi, anche se sono vicine per istanze astronomi, che sono impossibili da raggiungere, ma è il limite di oggi. Dobbiamo imparare solo che i limiti sono quelli che noi definiamo come limiti, ma tutti i limiti sono battibili e sono superabili. Dobbiamo lavorarci.